Questo video è realizzato grazie al programma EA Creator Network. Ciao a tutti ragazzi e bentornati finalmente in un nuovissimo video dedicato a The Sims 4 e Vita nel Ranch. Io sono Alessandra da Sidesim e se ancora non mi conoscete nell'info box andate a spulciare tutti i link che vedete e andate, mi raccomando, anche a cercare i video precedenti all'interno della playlist che trovate appunto dedicata a Vita nel Ranch. Io ho la fortuna di giocarci con l'accesso anticipato, quello che vi ho già detto nel video precedente è che se notate qualche stranezza, bug eccetera non vi allarmate perché questa è una versione appunto temporanea, non definitiva. Poi ovviamente giocheremo ampiamente all'interno delle mie serie sulla piattaforma viola per il momento. Guardate lui che bella, fa il ballo country, sto impazzendo. Nelle mie serie principali stavo dicendo e questa non è la sede per appunto andare ad indagare tantissimo il gameplay con una miniserie e il mio obiettivo è quello di farvi vedere delle cose molto interessanti e soprattutto le novità più eclatanti. A tal proposito ragazzi, se l'altra volta vi avevo fatto vedere spulciare le aspirazioni, questa volta vi voglio far vedere un attimino i servizi che abbiamo adesso a disposizione. Innanzitutto li potete trovare già nella lista, ma se andate qui direttamente su esterno vi facilita la vita perché ce l'avete proprio qua, bracciante del ranch. Sì ragazzi, adesso potete assumere un bracciante. Tra l'altro aspettate perché voglio rivedere, non ho fatto caso al prezzo 100 ma per quanto tempo, oh mio dio, ho un attimo un dubbio chiamo a un servizio, 100 normale, ah ok, 100 normale di base per la chiamata alla faccia mia e 12 all'ora, ok perfetto basta parlare con un Rick, io speravo che visto che lui era, ho capito, un po' snob magari non andassero d'accordo invece no ragazzi, sono una bellissima coppia, grazie di aver contattato i servizi da ranch carovana dei cowboy aiutiamo gli allevatori a prendersi cura del bestiame, a eseguire varie, grazie il logo proprio adesso, varie riparazioni e a fare giardinaggio il bracciante del ranch che è assunto lavorerà ogni giorno dalle 7 alle 19, quindi ragazzi comincia domani e non vedo l'ora di scoprire chi sarà, sicuramente non è lei visto che adesso sono le 19 e passate come al solito qui trovate tutte le informazioni, non sto qui a dirvi, ma adesso ragazzi devo darvi una notizia perché vi avevo fatto vedere le aspirazioni, vi avevo detto quali erano le abilità dei cavalli eccetera eccetera ma una cosa che adesso vi faccio scoprire è che ho barato, anche stavolta ragazzi non mi smentisco mai perché dovete sapere che il nostro Ulrich, a parte il fatto che mi dice ritmo della prateria cioè a lui piace proprio, ma venite un attimo qui a vedere allora abbiamo innanzitutto, io direi, no, più che riprendi produci netta, rifinisci o scarta? Io direi scartiamo ragazzi, sì 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 perché dobbiamo fare qualcosa di molto più interessante ah, con la tizia non andiamo molto d'accordo perché l'altra volta è venuta a fare il comitato di benvenuto allo scacciata allora, questi ingredienti essenziali li avevamo già alcuni, però direi di prenderne altri mi servirebbe il fiore della morte e andiamo a produrre nettare ebbene sì ragazzi, se vedete alcune cose diciamo in grigio è soltanto perché non abbiamo ancora l'ingrediente che serve ad esempio in questo caso i rifiuti sì, si può fare un nettare di rifiuti in questo caso all'erba della prateria perché se l'è mangiata tutta leggenda e perché non l'ho raccolta ma possiamo vedere come si sono sbloccate anche le bevande che posso creare con il livello di abilità 5 perché ragazzi Ulrich a livello 5 io adesso vado a creare il nettare di bacche in questo caso invece ragazzi ci serve un fiore della morte e uno spinaccio e non mancherò di farglielo recuperare in qualche modo perché oggi appunto voglio farvi vedere le cose più interessanti che potete fare massimizzando le vostre abilità nuove appunto che escono con l'espansione e se Ulrich, Ulrich scusami però ma tu hai il livello 5 e non sai fare un cavolo vedete il livello 5 la preparazione del lettare combina la delicata arte di estrarre i sapori essenziali da un'ampia varietà di ingredienti con l'arte un po' meno delicata del ridurli in poltiglia però lui di Ulrich dovrebbe non cadere comunque mentre lui appunto si dedica a questo vi faccio vedere che anche Mandy ragazzi e ragazze ha massimizzato la sua abilità di equitazione e quindi ha il livello 10 ma non è l'unica perché ragazzi adesso vi faccio vedere cosa è successo a leggenda ha la sua prima bottiglia di nettare di bacche attenzione attenzione vediamo la qualità di questo nettare di bacche 258 ragazzi avendo massimizzato l'abilità come vi avevo fatto leggere nel video precedente massimizzandola avete anche la possibilità di invecchiare automaticamente alcune cose per esempio questo era quello che aveva fatto volta scorsa nettare di mele del cavolo mentre invece questo 258 ma stiamo scherzando tra l'altro scusatemi ma vi dirò di più io apro questo me lo vado proprio già subito a vendere perché rientra ecco vedete rientra nel nel guadagnare vendendo nettare quindi ci sta dire di di continuare a farlo ma veniamo a Mandy ragazzi perché cliccando su leggenda dov'è leggenda eccola qua sta sempre qui cara allora andando su leggenda adesso ragazzi vi faccio vedere in cura dei cavalli no scusate mi scherzavo azioni apri il profilo ragazzi io ce l'avevo detto che valeva millesimo leone e ciaccia vale ancora millesimo ma lei vale 20.400 vi faccio vedere le sue abilità no vabbè ragazzi vi giuro aiuto non ce la posso fare temperamento 10 agilità 10 salto 10 resistenza 10 ragazzi ci rendiamo conto questo è il momento perfetto per andare a galopparla anzi a montarla che fai andarla a montare e andare quindi ragazzi istantaneamente a fare una gara mi sa che dovrò aspettare domani mattina perché sono le 10 e mezza di sera si ragazzi dobbiamo aspettare le 7 di mattina perché le competizioni si possono fare dalle 7 di mattina alle 19 ma direi che non ci abbattiamo mentre Mandy è lì fuori ad aspettare di poter fare la competizione io vengo a produrre un nuovo tipo di nettare perché si ho lavorato per voi in questi momenti che per voi sono stati secondi ma ho reperito il fere della morte e lo spinacio quindi andiamo immediatamente ragazzi proprio immediatamente a produrre questo nuovo tipo di nettare io vi giuro non vedo l'ora anche di scoprire se ci sono delle modalità differenti per produrlo ma guardate c'è già l'etichetta lì oh mio dio tra l'altro le altre non mi ricordo se avevano fatemi vedere questa aveva la mela sì visto che lui ha anche il livello massimo di abilità ma vabbè è l'unico livello diciamo con cui è possibile fare questa bottiglia quindi non so quanto poi possa variare il prezzo cioè se io ho 5 magari vale che ne so 3000 e non può valere di più andiamo a vedere ragazzi ce l'ha qui dentro ce l'ha qui dentro eccolo 2000 2156 no ragazzi adoro adoro tutto e appena la prima bottiglia di nettare della vitalità sono state inserite nel suo taccuino allora ragazzi andiamo a leggere il nettare di vitalità che abbiamo appena creato questa bevanda se così si può definire non è tanto un'immensione culinaria quanto una bizzerria alchemica la morsa soffocante della morte stessa stravolta dall'umile spinacio dimostra che l'abilità e gli ingredienti giusti possono trasformare una fine in un inizio preparato con fiore della morte spinaci proprio così randomico aiuta sim a sentirsi felici aumenta di poco la vitalità dei vivi e molto quella dei defunti se il nettare è almeno leggermente invecchiato la vitalità del sim aumenta e il senso di felicità permane dopo che l'effetto del nettare scompare l'invecchiamento lascia le bottiglie di nettare intatte per farlo invecchiare una volta raggiunto lo stato leggermente invecchiato gli effetti positivi si intensificano e quelli negativi si riducono le bottiglie di nettare raggiungono il valore massimo in sim le hanno al raggiungimento dello stato dannata il nettare invecchia un po' più velocemente se viene conservato in un seminterrato in una cantina oppure molto più velocemente se viene conservato in un portabottiglie ragazzi ma allora io la metterei qui chissà che qualcuno non muoia nel frattempo ragazzi non ci sto credendo un Rick sta davvero morendo no cioè ma l'ho appena detto e si stava semplicemente prendendo ok se è la mia salvezza non lo dimenticherò ragazzi stava semplicemente riscaldandosi lì vicino follia però le mie parole fanno male eccoci qua ragazzi allora sono le sette e mezza e di buon'ora loro sono venute per gareggiare ma Mandy ha pensato giustamente di pulire un pochettino l'eggenda e prepararla alla gara spazzoliamo anche il manto è vero che non serve a niente sostanzialmente per andare a fare una gara però sinceramente io non lo escludo quindi adesso abbiamo la possibilità di partecipare ad una competizione anche fare addestramento equestre tra l'altro vi faccio notare che però è prettamente inutile perché leggenda ha già tutto al massimo potrei anche vendere il cavallo a 20.400 simbolo che vi faccio notare e andiamo a partecipare ad una gara ma ragazzi questa puntata la rimando al prossimo video quindi se ancora non l'avete fatto iscrivetevi al canale perché nel prossimo video arriverà proprio una competizione equestre con un cavallo che ha tutte le abilità massimizzate ci vediamo prestissimo se questo video finora vi è piaciuto mi raccomando mettete un pollice in su e ovviamente seguitemi su tutti i social che trovate nell'info box un bacio a tutti e a presto ciao